In nomine Patris e Filii e Spiritus Santi, Amen. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, oggi faccio un breve intervento sull'abito ecclesiastico. Vorrei quindi arrivare poi in seguito a parlare dei paramenti liturgici, ma prima parliamo proprio dell'abito che il sacerdote o il religioso porta comunemente. C'è un termine generico, il più generico di tutti, che è il termine veste, deriva dal latino vestis. Un altro termine che ha un significato più circoscritto è il termine tonaca, che deriva dal latino tunica. Per tonaca propriamente si intende una veste larga, lunga fino ai piedi, maniche piuttosto larghe, non modellata sul corpo della persona, che naturalmente ha bisogno di un cordone o di una fascia o di una cintura per essere stretta attorno alla vita. La tonaca è l'abito dei religiosi, dei monaci, delle monache, del clero, quindi regolare. Cosa si intende per clero regolare? Sono quei consacrati che sono sottoposti ad una regola, la regola di comunità, e vivono all'interno di un convento o di un monastero. Il clero regolare porta comunemente, poi naturalmente ci sono le eccezioni, la tonaca, quindi deve essere specificata questa tonaca. Può essere la tonaca francescana, che ha un colore particolare, una forma particolare, la tonaca dominicana, la tonaca benedettina, eccetera, eccetera, eccetera. Veniamo però al clero secolare. Il clero secolare sono i consacrati che vivono nel secolo, cioè al di fuori dei conventi, dei monasteri, e non sono sottoposti a una regola di comunità, ma semplicemente al diritto canonico della Chiesa. Questo è il clero secolare. Il clero secolare indossa la talare, si chiama così. Questo vestito nero che io porto, adesso non so se... Ecco, si può vedere. Questo vestito è la talare, lunga fino ai piedi, questa volta però modellata sulla persona, aperta sul davanti e allacciata con una lunga serie di bottoni e fa appunto vedere il colletto bianco. Questa è la talare. La talare deriva dalla parola latina talaris, che è un aggettivo, un aggettivo qualificativo della parola veste. Quindi in latino si direbbe vestis talaris, la veste talare. Perché si chiama talare? Talaris. Perché arriva fino al talus. Il talus è il tallone, quindi col termine talare si indica la lunghezza della veste, fino al tallone. Poi, e questa parola, questa veste talare, è chiamata anche veste piana, perché Pio, il papa Pio IX, nell'Ottocento, la rese obbligatoria per tutto il clero, specialmente delle nazioni cattoliche, quindi Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Austria, mentre nelle nazioni a preponderanza o con la presenza, forte presenza, dei protestanti, cioè le nazioni tedesche, Germania, Olanda, eccetera, e anglosassoni, quindi in America, Angleterra, eccetera, erano tenuti i sacerdoti ad usare il clergyman. Il clergyman era usato da parecchio tempo in quelle nazioni che sono diventate protestanti in seguito alla riforma. Quindi, il clergyman, che cos'è? Il clergyman è una parola inglese che significa ecclesiastico. È un aggettivo ed è sottinteso il nome abito, abito ecclesiastico. Clergyman dress sarebbe. In Italia divenne possibile sostituire la talare col clergyman dal 1964. Naturalmente, questo fu come l'apertura di una diga, perché io ricordo che allora nella mia infanzia erano visti come novità, una novità assoluta a sacerdoti che non solo vestivano i clergyman, ma si permettevano anche altri altri abbigliamenti. Soprattutto andava il maglione dolce vita scuro, un po' come quel personaggio che c'è nel film The Catholics e quel sacerdote che veniva da Roma come ispettore della comunità monastica, non so se l'avete visto, e vestiva appunto così con un paio di blue jeans un po' scuri e questo maglione a collo dolce vita, una giacca sportiva, eccetera. Si sono visti abbigliamenti di tutti i tipi negli anni sessanta, settanta specialmente, si sono visti sacerdoti con l'eschimo e con la sciarpa rossa, militanti del partito comunista, dei partiti estremisti della sinistra. Oggi si vedono sacerdoti con la sciarpa arcobaleno e cose di questo genere, insomma, un po' di tutto. Ma allora, sì, fu negli anni sessanta una grande novità. C'è da dire che il... Che cosa diciamo a proposito dell'abito? Perché vi parlo dell'abito del sacerdote o del religioso? Perché l'abito è una sorta di sacramentale per la persona consacrata, sia per chi lo indossa che per chi lo vede questo abito. Ecco, la persona, il fedele che vede un sacerdote vestito con l'abito è portato certamente a... è richiamato al carattere sacro della persona del consacrato. Essendo consacrato è sacro, cioè appartiene a Dio totalmente. E... sia importante anche per il sacerdote stesso, per il religioso stesso, perché si ricorderà continuamente durante la giornata di ciò che è, di ciò che rappresenta, di quella che è la sua missione. Certamente, dicevo, sacramentale e quindi porta con sé anche un un aiuto di grazia particolare, ecco, come difesa dagli assalti del male, dalle tentazioni, dai pericoli all'anima, ecco, e come anche, sì, come difesa, ma anche, come dicevo prima, come ricordo e durante il giorno di quello che una persona è, rappresenta e fa nella Chiesa. Quindi, più importante ancora dell'abito, però, intendiamoci bene, è questa consapevolezza che il sacerdote deve avere e che purtroppo ha perduto in questi anni. Cioè, chi sono, chi è il sacerdote, qual è la sua missione all'interno della Chiesa, nel progetto di Dio, qual è la sua vocazione, chi lo ha chiamato a fare questa missione, Gesù, Gesù lo ha chiamato e quindi deve essere consacrato, cioè separato dal resto del popolo di Dio. Questo è necessario, che ci sia una distinzione perché si possa più chiaramente comprendere la sua missione, altrimenti sono tutte cose confuse come succede oggi. Non si capisce più la distinzione che c'è tra il sacerdote e il popolo di Dio, tra il sacerdote e il laicato. Questo è il risultato purtroppo di quell'egualitarismo che ha invaso la Chiesa, la pastorale ecclesiastica in questi decenni. Bene, detto questo però bisogna anche quindi l'importanza dell'abito è uno a questo proposito potremmo ricordare la testimonianza di Rolando Rivi il seminarista che morì appunto dopo la guerra finita a causa dei partigiani proprio per avere continuato a portare l'abito. Ma ci sono anche norme di prudenza nei periodi di grande persecuzione per esempio è necessario che i sacerdoti non portino l'abito proprio per non attirare su se stessi le ire dei nemici e proprio per poter continuare a portare e amministrare i sacramenti nonostante tutto. Io ricordo la vita di un certo di un sacerdote del 1600 inglese quindi parliamo proprio di persecuzione degli anglicani sui cattolici questo sacerdote Postgate era dello Yorkshire questo sacerdote era travestito da ortolano in questo modo poteva raggiungere i fedeli celebrare la messa e portare i sacramenti sia lodato Gesù Cristo